mettono... le fanno... vedi che poi sono belle cos'è? una cozza, ma è grossa enorme, in quel canaletto là riesci a vederla? e dove l'ha trovata? nel canaletto, in quel canaletto perché queste hanno il pezzo un po' più grosse, si lasciano andare si lasciano, si liberano dai pesci ci vanno nel strato anche più grosse il mollusco il mollusco è giallo dentro poi vedi che ci sono anche queste conchigliette queste sono vogole di fiume queste però vengono dal sud-est asiatico sono venute in Italia tramite l'importazione di pesci vivi perché si prende il pesce magari dal bacino danubiano perché lì costa poco il pesce, viene utilizzato per fare i ripopolamenti nei laghetti di pesca sportiva e poi escono e queste in America hanno creato grossissimi problemi alle centrali nucleari perché è l'acqua che entra per raffreddarli crescono tutte queste conchiglie che le intasano loro devono continuamente pulire queste condotte perché crescono in una maniera pazzesca poi con l'acqua calda delle centrali ancora peggio e poi ha messo in crisi persino l'industria nucleare negli Stati Uniti grazie grazie